Spesso la trovate preinstallata sui vostri smartphone Android, eppure molti non ne conoscono le potenzialità. Sto parlando di Google Photo, un'applicazione che sembra una normale galleria fotografica, ma che in realtà nasconde molti segreti. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Quante volte vi è capitato di cancellare delle fotografie per liberare la memoria dello smartphone? Probabilmente più spesso di quanto vorreste, eppure per salvare i vostri preziosi ricordi basta pochissimo, o meglio, basta un'app. Google Photo è un'applicazione disponibile sia su Android che iOS. Grazie ad essa potete eseguire gratuitamente il backup illimitato delle vostre preziose immagini e persino dei video. Tutto quello che dovete fare è selezionare un account Google e lasciare che l'app faccia tutto da sola, una volta collegata a una rete Wi-Fi. Tutte le foto contenute nello smartphone verranno così salvate nel cloud, e potrete consultarle sia dal vostro PC che da qualsiasi altro device. Avete quindi esaurito la memoria dello smartphone? Niente paura! Una volta configurata, l'app vi chiederà se volete eliminare le foto dalla memoria del telefono, foto che in realtà sono già conservate nel cloud. A voi basterà dare l'ok e in un attimo avrete molto più spazio sullo smartphone e la certezza che i vostri scatti siano al sicuro. Il backup automatico però non è l'unico segreto di Google Photo. L'app, infatti, ordina le foto per permettervi di cercarle in base al luogo o al soggetto ritratto. Questo accade grazie a un complesso algoritmo. Vi ricordate di quella foto in cui eravate intenti a saltare da un trampolino? Ecco, non dovrete più scorrere all'infinito con il dito per trovarla, annoiando poi anche a morti i vostri amici. Basterà digitare trampolino e il gioco è fatto. Google Photo la ritroverà per voi. Un ultimo segreto, volete condividere le foto delle vacanze con i vostri amici? Basterà selezionarle tutte creando un album dall'applicazione e condividerlo con gli amici, semplicemente inserendolo a loro mail. Se invece siete partiti tutti insieme potrete creare una raccolta di foto condivisa dove ognuno potrà aggiungere i propri scatti. In pochi minuti tutti avranno a disposizione un bellissimo album delle vacanze senza nessuna fatica. Direi che per oggi è tutto, io corro a creare tanti nuovi album. Voi nel frattempo visitate il nostro sito www.techprincess.it Ciao!